Ci troviamo qui nel quartiere dell'Uzen e si assiste ad una situazione davvero desolante, infatti alle vostre spalle possiamo notare una grande massa di rifiuti. Cosa ne pensano gli abitanti di questo quartiere? Cosa ne pensano? Sono veramente stanchi gli abitanti di questo quartiere, vedere queste discariche, vedere che c'è un grande piazzale dove potrebbe esserci una villetta, un parco di giochi, invece i bambini devono stare dentro, non hanno spazi per andare a giocare, il nostro sindaco che dice che deve riqualificare l'area dell'Uzen, come vedete è sempre uguale, a due mesi da quanto l'ha detto a ora è ancora uguale, non penso che sia giusto prendere ancora in giro gli abitanti del quartiere. Signor sindaco si faccia un altro tipo di campagna elettorale, non faccia più sopra le spalle delle disgrazie delle persone, il quartiere è stanco, il quartiere vuole cambiare, vuole migliorare, migliorare però essere aiutati perché da solo non ce la facciamo. Ho il piacere che viene qua l'onorevole Figuccia perché lo sentiamo e lo vediamo, che lui è un ragazzo come noi che si muove nel territorio, uno che lotta per i diritti degli abitanti e io sono fiero, sono felice che sono accanto a lui, veramente. Non è giusto che questo quartiere che potrebbe dare tanto diventi un luogo di discarico, allora perché non valorizzarlo? A chi spetta questo compito? Questo compito spetta sicuramente l'amministrazione comunale, un'amministrazione assolutamente assente. Mi raccontava Gianni che addirittura dagli anni 90, Orlando, quando già era sindaco, veniva a fare le sue passerelle in questo quartiere. Veniva qui e faceva sognare i cittadini, i cittadini ai quali diceva che qui sarebbero potuti sorgere degli spazi di aggregazione per i ragazzi, che qui sarebbero potuti sorgere delle situazioni che avrebbero intanto rotto con il passato. Da quel 1990 sono passati oggi circa 16 anni, il sindaco puntualmente sotto la campagna elettorale viene a dire che questi cumuli di rifiuti verranno tolti. La cosa peggiore è che qui c'è ovviamente un problema legato alle questioni sanitarie, qui c'è un problema legato ai bambini che chiaramente rifchiano anche delle malattie in funzione alla presenza di pesticidi. Allora noi chiediamo all'amministrazione e al sindaco Orlando in modo particolare, che il sindaco non lo sa fare, chiediamo di fare degli interventi immediati perché qui si possa realizzare un'opera che possa servire al territorio. Oggi lui è il sindaco della città metropolitana e quindi ha un'infinità di risorse comunitarie. In lui sono concentrati poteri di ogni tipo che vanno dall'aeroporto fino alle attività che erano prima rappresentate dall'ex provincia. Ha a disposizione un'infinità di somme, non è giusto che i bambini e lo zen continuino a vivere in questo modo e quindi noi insieme al Consiglio di Circoscrizione faremo di tutto, porteremo avanti le nostre battaglie perché si possa uscire da questo stato assolutamente ingiusto e non buono per i cittadini. Cosa si dovrebbe fare qui? Basterebbe anche soltanto una villetta per togliere tutto questo degrado. C'è schifo. Anche un parco giochi per i bimbi? Ma ma caro signore, c'è un delirio. Lei per esempio è molto giovane, qui anche un cappetto di calcio? C'è appunto, anche un cappetto di calcio andrebbe bene, anche per levare tutta questa sporciccia che c'è. Un campo per allenare i cavalli o una bella villetta per i bambini. Quindi lei è cresciuta in questo quartiere, ovunque vediamo discariche. Sì, io penso che il problema principale sia il nostro che ovviamente queste sono cose che non fanno bene al quartiere e penso che è una brutta cosa vedere anche magari noi che ci abitiamo all'interno portare delle persone esterne e dico non è una bella cosa più oltre che alla questione salutare che non è niente da poco, diciamo. È un bel quartiere che può dare tanto però come sempre è abbandonato. Allora pensi che siamo davvero a pochissimi chilometri dalla spiaggia di Mondello da una parte, sotto Monte Pellegrino, a poca distanza dal parco della Favorita, quasi all'imbocco autostradale, in una zona che potrebbe davvero, come era stata pensata tanti anni fa, rappresentare un polmone importante della città, con spazi importanti verdi e che invece sono stati destinati ed utilizzati in questi tanti anni con promesse su promesse da parte delle amministrazioni. E devo dire che in questa città Orlando l'amministratore l'ha fatto per ben cinque volte. E in tutti questi anni si sono alternate soltanto promesse. È un vero peccato. Qui il mio amico leggevo sulla sua maglietta Comitato Regionale Sicilia. Sono certo che è uno sportivo e che quindi sta impegnandosi, è un giocatore, sta impegnandosi in questo quartiere a favore dei ragazzi. Ecco, questo è un quartiere che oggi vive grazie alla sensibilità di un mondo del volontariato, all'impegno dei consiglieri di circoscrizione, grazie all'impegno di tanta gente che riesce a portare avanti le cose in una condizione dove obiettivamente le istituzioni si sono perse, si sono perse negli anni. Questa è un'altra discarica. Veniamo già dalla precedente che veniva chiamata da Orlando Giardino. Giardino della civiltà. Definito da Orlando in passato Giardino della civiltà. Di civiltà veramente poco. Dice il consigliere lo chiamiamo in un altro modo. Come lo chiama? Giardino della inciviltà. Già dice tutto. Ecco, quando allora i cittadini hanno un sentire comune che si contrappone, e qua da civiltà in civiltà, non solo si contrappone, è esattamente il contrario di quello che le istituzioni in testa e il sindaco Orlando vogliono raccontare, ecco, quello è un momento in cui la gente si allontana da tutto, si allontana dalla politica. Noi siamo qui insieme alla gente per dare voce a chi non ha ascolto e fare in modo che soluzioni a queste iniziative, a questo genere di fascio totale, possano finalmente essere prese. Anche in questo posto già Orlando è venuto con la sua campagna elettorale dicendo che entro un mese qua lo ripulivano pure. Io da tre anni che faccio mozioni in consiglio, qua si chiama via San Nicola, questa strada, per riqualificazione aria. Lui un mese fa ha detto che via San Nicola l'aria sarebbe pulita totalmente. Siamo a maggio, sono passati due mesi, come vedete lo spazio verde, dove doveva essere verde, ancora è pieno di immondizi. Io spero che Orlando lo capisca che ormai ha fatto una brutta figura nel quartiere e spero che magari, che negli ultimi mesi, si muova il più presto possibile. Quindi promesse al vento. Promesse al vento, giustamente. Promesse senza mantenute, diverso. Un sindaco che dovrebbe mantenere la sua parola, avesse i suoi cittadini, dove qua lui ha preso tanti voti, dove qua le persone l'hanno rispettato e lo volevano rispettare, però abbiamo visto che lui qua non si fa volere più bene perché quando vieni qua a prendere in giro le persone siamo stanchi. Noi il quartiere Zene è stanco. Noi siamo stanchi di sentire sempre queste discussioni che non vanno nemmeno una lira. Vengono sempre qua a dire qualche cosa, però sono promesse, non mai con tanto risultato. Siamo stanchi, stanchi, stanchi. Respiriamo sempre brutti odori. La mattina appena ci svegliamo apriamo la finestra e la dobbiamo richiudere dalla puzza delle che c'è in questo quartiere. Non ci dimentichiamo i diritti dei bambini. Io devo dire che oggi mi sono svegliato con una priorità spiccante, nel senso che sono stato coinvolto da delle persone competenti, ovvero il consigliere Gianni Draghi e l'Onorevole, proprio perché sono contento proprio perché almeno veniamo noi, voce del popolo, ascoltati. Almeno non rimangono solo parole, ma risultano veramente dei fatti concreti. Perché sono un ragazzo cresciuto da 24 anni in questo quartiere e devo dire che sono cresciuto con dei valori grazie ai miei genitori, ma soprattutto anche grazie alle persone che ci stanno vicino. Io non dico che le istituzioni ci abbandonano, però quando ci ritroviamo di fronte a queste riscariche, perché non sono più che altro, devo dire che tutto il resto non conta, perché potremmo vivere in un mondo migliore quando questo non lo è. Cioè potrebbero essere dei parco giochi per bambini, invece no, alla mia sinistra troviamo un rifugio di tossicodipendenza e quindi questo è pericoloso sia per chi vive, ma sia per chi ci viene a trovare. Io non dico che mi mortifico, però cerco... Per il suo modo di vivere è chiaramente degradante. Esatto, è molto degradante, perché oggi nel 2016 ancora ci dobbiamo ritrovare con queste cose, non è giusto. Vediamo un quartiere degradato. Sì, vero, tantissimo. Specialmente la zona da questo lato qui, zona ZN1. Anzi, col signor Gianni siamo riusciti a fare tante cose che prima non si facevano e che non c'erano. Ora piano piano, sempre grazie al signor Gianni, siamo riusciti ad avere un quartiere un po' più pulito rispetto a prima. Ora ci vorrebbe anche sistemare quest'area che è un po' tanto degradata, perché noi che abitiamo di fronte e andiamo a vedere, e affacciamo con i bimbi anche per scendere, per farli passeggiare, non abbiamo un'area dove farli passeggiare, dove farli un po' stare, perché insetti, mosche, zanzare, chi viene a scaricare, chi butta l'immondizia. Quindi sarebbe una cosa buona, come le altre cose, sistemare anche questo lato qui. Che si sape che qua allo ZN, grazie a Dio, abbiamo persone per bene, persone grandi, di età, che hanno educato i loro figli a rispettare il prossimo, il primo, qualsiasi persona, bambino, grande, adulto, e cercare di fare sport. E qua abbiamo tanti talenti, ragazzi di tanti talenti, che sono arrivati in Serie B al calcio. e ora abbiamo un ragazzo che ha vinto con la box campione italiano. Abbiamo persone laureate, diplomate, laureate di donto tecnico. Dico, qua abbiamo tutto, qua c'è, è un quartiere grandissimo, qua siamo 38.000 abitanti, dove 37.900, c'è gente per bene, che vorrebbe vivere per bene, con la dignità abitativa, e dignità lavorativa, aiutare a dare del lavoro, perché oggi sappiamo che come lavoro, qua la disoccupazione ci sta arrivando all'estremità. Dico, di vedere, di poter fare dei progetti, di aiutare questi giovani, a insegnarci un'arte, un mestiere, perché qua la paura è anche questo, che non abbiamo, per i nostri figli, non c'è futuro. Non c'è futuro.